L'ordine del giorno rega l'audizione del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Pino Musolino, che ringrazio della presenza. L'audizione di Erna rientra nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sul SIN di Venezia. Comunico che l'audito ha preso visione della disciplina relativa al regime di pubblicità del resoconto stenografico della seduta. Invito quindi il nostro ospite a svolgere una relazione al termine al quale eventualmente poi faremo delle domande io e i miei colleghi. Onorevole Presidente, Senatori, onorevoli grazie per l'opportunità che mi concedete oggi di darvi delle ulteriori informazioni su un tema che sta diventando non solo di rilevanza per l'autorità che presiedo ma anche per il Paese. Io ho realizzato una presentazione abbastanza rapida perché immagino che i tempi siano contingentati ma che vi dà un quadro di quello che sono appunto lo stato attuale, anche delle competenze e delle ripartizioni di leggi. In maniera tale che per chi non avesse avuto il tempo e il modo di aver chiaro cosa è successo anche rispetto alla legge di riforma sui porti e alle modifiche che sono intervenute, abbiamo una foto molto puntuale del sistema. Allora, fondamentalmente quali sono i compiti istituzionali intanto rispetto al tema odierno, cioè alla gestione dei rifiuti nell'ambito dell'attività dell'enti? I compiti istituzionali dell'autorità di sistema portuale sono fondamentalmente quelli stabiliti dalla legge 84-94 e successive modificazioni, particolarmente la riforma effettuata con il decreto legislativo 169 del 2016, indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, e vi compresa anche quella del mantenimento dei fondali, in questo caso proprio stabilito l'articolo 6,4 lettera B della legge 84-94, all'interno del quale appunto vengono poi gestiti i rifiuti prodotti nell'ambito dell'infrastrutturazione e delle aree di competenza, quindi i lavori pubblici e quanto si produce attraverso l'intervento, il banchinamento piuttosto che altri interventi, e poi i rifiuti prodotti nel corso delle attività del dragaggio, ci torno se mi permettete, solo nel caso in cui siano considerati sedimenti pericolosi. Questa è una precisazione estremamente rilevante perché nell'ambito del cosiddetto protocollo fanghi, attualmente peraltro in fase di revisione da parte del Ministero dell'Ambiente, il sedimento pericoloso diventa rifiuto solo se è classificato oltre C pericoloso, quindi dovete tenere conto del fatto che il protocollo fanghi attuale, che è del 1993, stabilisce che i fanghi sono ripartiti in quattro categorie fondamentalmente, A, B, C, oltre C, e nell'oltre C ci sono due sotto insiemi, gli oltre C non pericolosi e gli oltre C pericolosi, solo quest'ultima categoria viene poi classificata rifiuto, tutte le altre sono sedimenti da dragaggio e quindi come tali vengono trattati anche rispetto alla profilazione, alla tracciabilità, alla documentazione necessaria, al modo con il quale devono essere gestiti inertizzati e quant'altro. E poi ultimo punto rispetto alle competenze in ambito ambientale e gestione dei rifiuti sono l'assegnazione, la vigilanza dell'assegnazione dei servizi di interesse generale, che sono quelli appunto legati ai servizi di bettolina e di bunkeraggio delle acque nere e delle navi, piuttosto che di rimozione di materiali inquinanti, nel caso ci fossero sversamenti in aree portuali, tutti i servizi che vengono affidati attraverso procedura di evidenza pubblica da parte dell'autorità che poi non ne gestisce direttamente il servizio, voi sapete che per legge le autorità di sistema portuale non hanno la possibilità di gestire direttamente i servizi, fanno questo ruolo fondamentalmente di regolatore e controllore che nell'ambito dei porti le cose vengono svolte fondamentalmente secondo le norme di legge. Non riesco ad andare avanti, eccolo qua, quindi vedete appunto la raccolta dei rifiuti da navi, residui da scarico, la pulizia degli specchi acquei e la pulizia delle aree comuni, verde e dei rifiuti a terra. Queste sono tutte le competenze dirette che in qualche modo la legge assegna, o le leggi dell'ordinamento, assegnano all'autorità di sistema portuale. Come vedete sono relativamente residuali rispetto ai macro temi. Quindi appunto tra i compiti individuati dalla legge non ci sono esplicite deleghe di carattere ambientale. Peraltro questo punto è stato anche confermato da un parere che l'autorità portuale nel 2016, prima di diventare autorità di sistema, aveva chiesto anche all'avvocatura distrettuale dello Stato che ha confermato che non esistono deleghe dirette da parte della legge rispetto agli interventi in natura ambientale, ma che questi possono essere eventualmente assunti dalle autorità attraverso accordi di programma piuttosto che stipulazione di accordi tra enti pubblici nell'ottica possibilmente della razionalizzazione della spesa pubblica. Sottolineo questo perché effettivamente in alcuni casi questo è quello che è successo all'interno delle aree del porto di Venezia, dove per esempio quando sono stati fatti alcuni interventi di rifacimento delle banchine, quello sì compito istituzionale dell'autorità di sistema, sono stati fatti anche degli interventi di marginamento ambientale, non altro perché si apriva il cantiere nello stesso luogo dove si sarebbe dovuto fare il marginamento, e quindi come autorità di sistema, come autorità portuale prima e come autorità di sistema adesso, per ottimizzare il lavoro e soprattutto per razionalizzare la spesa pubblica, facciamo lo stesso intervento che però comunque per la parte ambientale viene approvato e vidimato dal Proditorato dell'Opera Repubblica che è l'articolazione dello Stato che è effettivamente titolare di quel tipo di potestà. E ovviamente nella stragrande maggioranza dei casi i lavori sono affidati mediante le procedure ordinarie previste dal codice degli appalti e delle successive modificazioni appunto come stazione appaltante. E quindi appunto alcuni ulteriori dati per farvi capire anche il fatto che in alcuni contesti, anche se ci fosse l'intenzione da parte dell'autorità di sistema portuale di farsi carico di alcuni interventi, non ci sarebbero proprio le capienze dirette a bilancio per poterli fare direttamente. Infatti appunto il modo col quale la legge istitutiva che prevede anche un'autonomia finanziaria e gestionale concede all'autorità di sistema di, fra virgolette, autofinanziarsi attraverso la riscossione dei canoni di concessione, eventuali provvedimenti derivanti dalla cessione di impianti e le tasse sulle merci sbarcate e imbarcate. Appunto questo o contributi specifici dati dagli enti locali in alcuni casi appunto, come quello che porto qui ad esempio, rispetto a interventi come quello dato alla Regione nel 2004 per appunto risorse finanziarie per alcune bonifiche nell'area di Porto Marghera. Oppure contributi ministeriali diretti, in questo caso appunto sempre un fondo FSC che ha permesso di fare alcuni interventi rispetto ai marginamenti per almeno 40 milioni di euro. Questo per dire che in autonomia, data anche la consistenza degli interventi di natura ambientale, l'autorità di sistema portuale non ha proprio la capienza a bilancio perché rischierebbe di non poter poi più ottemperare i suoi ruoli istituzionali che sono quelli appunto di promozione, sviluppo, coordinamento delle attività all'interno dei porti e la promozione soprattutto dello sviluppo delle attività commerciali. Questo per darvi una foto è il Porto e il SIN di Venezia Porto Marghera. C'è stata poi una perimetrazione rispetto ai canali nel 2013. Ovviamente, signor Presidente, io lascerò tutta la documentazione agli atti di questa Commissione e se ci fosse una necessità integriamo con ulteriori richieste documentali. Cosa succede nell'ambito della gestione dei sedimenti e delle attività di dragaggio? Fondamentalmente vengono fatte delle attività propedeutiche all'escavo dei canali, ricordo, escavo manutentivo dei canali alle quote previste dall'approvato piano regolatore portuale. Quindi non stiamo parlando di escavo di nuovi canali o di ampliamento non previsto dei canali. Stiamo parlando di quel compito che, come dicevo in premessa, è tra i compiti principali e nucleati e definiti dalla legge sui porti, che è quello appunto del mantenimento della operatività e dell'accessibilità nautica all'interno del porto medesimo. Quindi viene fatto un'analisi circa appunto la qualità del sedimento da dragare, il quale viene delineato attraverso una serie di carotaggi e campionamenti e poi l'analisi medesima dei sedimenti ad oggi, secondo appunto il protocollo del 1993, oggi in fase di rielaborazione e definizione, in questo momento credo in mano al Ministero dell'Ambiente attraverso due richieste di parere di Ispra e poi il Ministro della Salute attraverso le richieste di parere dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo sarà il futuro protocollo di gestione dei sedimenti, però attualmente quello vigente e che è tuttora utilizzabile è il protocollo del 1993. Con quel protocollo che, come vi dicevo prima, fotografa quattro carte d'identità dei fanghi, gli A, i B, i C, gli oltre C, poi ripartiti nella parte oltre C non pericolosi e oltre C pericolosi, sono fondamentalmente, appunto, è lo strumento che ci permette di capire che cosa, che tipo di fanghi si sta trattando, per poi procedere nell'elaborazione e nella progettazione dell'escavo medesimo. I punti di indagine poi sono inseriti in un sistema di, come dire, georeferenziazione che permette addirittura in questo momento di attribuire a ogni singolo carotaggio, quindi a ogni singola analisi del sedimento, un lotto specifico di scavo e questa informazione viene poi trasferita alla draga che va a fare l'intervento e che permette un'azione mirata e puntuale, non voglio dire al centimetro, ma insomma con una buonissima capacità di essere precisi e permette quindi la rimozione del materiale in base alle analisi effettuate. Questo per dire che la possibilità di gestione di questi sedimenti, mantenendo un'altissima attenzione all'evitare che ci siano sospensioni di materiali pericolosi o che ci sia la gestione poco accorta del materiale pericoloso, è ridotta quasi al minimo e peraltro avendo la tracciabilità del sistema di georeferenziazione ci permette anche di avere una filiera perfetta che ci permette di indicare quale lotto di fango viene, da che parte viene, in che punto viene fatto e quindi permette anche di fare attraverso un processo di reverse engineering il controllo di dove è stato preso, di andare a verificare l'intera filiera. Vado avanti, cerco di essere più rapido possibile, però appunto nel sistema di competenze concorrenti direi all'interno del delicato sistema della Laguna di Venezia, la competenza diretta però della parte di progettazione spetta al provvitorato interregionale alle opere pubbliche, ex magistrato alle acque per intenderci, il quale approva il progetto esecutivo che viene redatto sulla base delle caratterizzazioni fatte secondo il protocollo di gestione dei sedimenti, l'intervento di dragaggio viene autorizzato sempre dal POPP, cioè dal provvitorato interregionale, i sedimenti vengono rimossi approfondendo lo scavo per lotti omogenei, quindi tendenzialmente tutti i B, o meglio tutti i C non sovrapposti, insomma non si scava prima un pezzo e poi l'altro a seconda delle caratterizzazioni, viene fatto un piano di dragaggio digitalizzato che viene appunto fornito alle draghe, che è quello che vi dicevo prima, dotate di GPS che hanno la possibilità di andare puntualmente sui luoghi delle caratterizzazioni come definiti in precedenza e come appunto anche geograficamente individuati in precedenza. Consente un'asportazione selettiva dei materiali qualitativamente omogenei, ottimizza la produttività e l'attività di dragaggio, ottimizza anche i flussi ai siti di recapito. Questo garantisce peraltro la piena tracciabilità, come dicevo prima, quindi la massima tutela dell'ambiente. E poi ovviamente c'è la possibilità di un monitoraggio puntuale dei mezzi operativi, cioè delle draghe che si muovono, attraverso l'utilizzo del sistema AIS e questo è stato un requisito richiesto specificamente dall'autorità di sistema portuale, così abbiamo la possibilità anche di verificare che effettivamente sulla base di quello che abbiamo detto, sulla base della tracciabilità delle mappe fatte come la slide precedente, sono effettivamente andati dove dovevano andare, quindi anche in questo caso ulteriore livello di controllo. I siti di conferimento sono in questo momento fondamentalmente l'isola delle trese per i sedimenti conformi alle cosiddette colonne B e C, in questo senso voi sapete che c'è stata recentemente la proposta di un progetto di innalzamento dell'isola delle trese che è stato approvato dalla commissione di salvaguardia con una serie di prescrizioni che verranno ovviamente ottemperate prima della redazione del progetto definitivo, che ricordo comunque non essere di competenza di ADSP ma del provvitorato dell'opera pubblica, e il fango cosiddetto di tipo A, cioè il fango pulito, lo stesso sedimento equivalente a quello pulito che si trova in tutte le tre aree della laguna, è e viene utilizzato sulla base delle indicazioni sempre del provvitorato interregionale alle opere pubbliche per le opere di ripascimento e riconsolidamento morfologico della laguna. Anche in questo caso, oltre all'individuazione dei siti di conferimento, l'adottando, perché ancora non è stato adottato, nuovo piano morfologico della laguna permetterebbe anche una migliore e più puntuale gestione dei fanghi o meglio dei sedimenti di tipo A, perché permetterebbe di essere riutilizzato anche se vuole in un'ottica appunto a bilancio zero dell'erosione, nel senso che dove viene fatta erosione il provvitorato dell'opera pubblica fa un piano e sulla base dell'asportazione di questi sedimenti vengono fatte operazioni di ripascimento, quindi il bilancio all'interno della laguna rimane fondamentalmente immutato. I siti di conferimento per i sedimenti di tipo C oltre C sono appunto la cassa di colmata Molo Sali, che è stata peraltro recentemente oggetto di un ulteriore accordo tra autorità di sistema portuale e la regione Veneto per scorporare questa cassa di colmata dal complesso dell'accordo di programma Moranzani, ai fini di permettere all'autorità di sistema portuale di intervenire in maniera più puntuale, soprattutto per mettere in sicurezza alcune delle sponde della palancolatura della cassa di colmata che progressivamente stavano degradando e quindi adesso noi faremo anche un intervento di manutenzione, sempre nell'ottica di mantenere la cassa di colmata, ma soprattutto di evitare che ci sia qualsiasi forma di pericolosità ambientale, anche remota, nei confronti della laguna. I sedimenti, come vi dicevo, sono considerati rifiuti solo se pericolosi ab origine. Mi permetto, signor Presidente, se posso in questa fase, di fare una... ho letto le dichiarazioni di altri soggetti che sono stati uditi sul punto e appunto sul... c'era una domanda che appunto mi pareva fosse addirittura stata posta da lei rispetto al fatto che c'è un'ulteriore categoria di fanghi che in realtà non è così come è stato peraltro spiegato in parte da credo dall'amministratore delegato di 3S3, cioè l'isola delle 3S ha una specifica cassa in calcestruzzo con terminata che è completamente separata da tutte le altre, che sulla base delle analisi e le caratterizzazioni fatte, nel caso in cui il provvitorato delle opere pubbliche non fosse in quel momento sicuro, diciamo, della carta di identità del fango, viene posizionato lì in maniera del tutto separata dagli altri fanghi, viene risottoposto a caratterizzazione o sottoposto a caratterizzazione e solo in quel caso lì viene poi destinato alle casse di colmata appropriate, quindi non c'è un ulteriore genus all'interno delle forme dei fanghi, c'è solo un momento nel quale può non essere chiaro quale sia la tipologia, questo fango viene completamente segregato e non mescolato o messo in contatto con altri fanghi, viene riverificato e solo a seguito di questo viene poi destinato alle casse di colmata appropriate, questo per dare appunto un'informazione che completa quello che avete già ricevuto. Sono attrezze. Sì signora. Finisco rapidamente, queste sono le attività di esca o dei sedimenti dei canali portuali che sono state fatte a partire dal 2004, ricordo appunto che ci fu anche una situazione considerata emergenziale perché poi nel 2004 venne addirittura stabilito un commissario ai fanghi che ha appunto fatto una parte consistente di dragaggi lagunari, appunto quelli che vi dicevo i sedimenti di classe A per ricostruzione o ripascimento morfologico sono stati circa un milione di metri cubi, nell'isola delle Tresse progressivamente nel corso degli anni sono stati conferiti circa 8 milioni di metri cubi di materiale entro B e dentro C, nella cassa di colmata Molossali che sono appunto i sedimenti oltre C non pericolosi circa 300 mila metri cubi e nella vasca dell'area 23 ettari moranzani che è l'unico caso in cui il sedimento è considerato rifiuto, cioè oltre C pericoloso, circa 5 mila metri cubi di conferimento. Bonifiche eseguite nell'ambito dei lavori pubblici per infrastrutturazione delle aree portuali del SIN sono appunto figlia di una serie di caratterizzazioni che in questo caso di progetti di bonifica che vengono poi approvati dagli enti completenti, particolarmente il MATM per quanto di competenza e vengono poi appaltati, aditte, autorizzati, iscritte da diverse categorie previste dall'albo gestori ambientali e poi viene verificato a valle dell'intervento di bonifica in contraddittorio con l'ARPAV, l'Agenzia regionale per la produzione dell'ambiente, l'effettivo completamento del progetto di bonifica, l'avvenuta, come dire, o temperamento di tutte le requisiti di natura ambientale. Questi vado molto velocemente se volete, questi sono gli interventi di... Prego, signor. Sì, signor. Allora, B e C vanno a 3S. A, per ripascimento sull'indicazione del progetto considerato. Oltre C ma anche C vanno a molosali? Fino adesso di solito oltre C. Ah, quindi C va solo a 3S. Invece, oltre C pericolosi vanno alla vasca... In un'area specifica che si chiama, sempre nell'ambito Moranzani, però un'area che si chiama 23 ettari nel quale vengono messi i sedimenti oltre C considerati pericolosi perché quelli sono da considerare il rifiuto. Si chiama Vasca Moranzani. Vasca 23 ettari, Valone Moranzani. E dove si trova? Vicino... Sempre lungo il canale sud. Comunque sempre dentro... Nell'ambito del sito 4, fondamentalmente. Lungo questo canale. Ok. Torno indietro sul momento. Vi faccio vedere solo la... Eccola qua. Il primo canale che vedete partendo dal basso della diapositiva. E questo... Perché poi c'era anche un'altra discarica che era fuori proprio il porto invece. O ricordo male? Quelle che utilizziamo noi o che vengono utilizzate per i fanghi di risulta o dei sedimenti di risulta dell'attività di dragaggio sono queste fondamentalmente. Fuori dagli ambiti portuali possono essere semplicemente solo le barene per i fanghi di tipo A, se ho capito bene la domanda. Eh no, adesso vado a verificare, non mi ricordo. Questa vasca Moranzani, 23 ettari, quanto manca? Quanta capienza? Questa è stata utilizzata fra virgolette molto poco. Avete visto che sono stati conferiti solo 5.000 metri cubi? Se posso aprire una piccolissima parentesi. Da un punto di vista, come dire, da cittadino dobbiamo... Sono, come dire, felice del fatto che abbiamo molto poco fango che è tossico al punto di essere... O inquinato al punto di essere considerato rifiuto. Significa che in qualche modo il lavoro nel corso dei decenni da parte di tutte le amministrazioni dello Stato coinvolte ha già portato a una sorta di... Mi scusi, mi è sfuggito. Che percentuale? Sono 5.000 metri cubi, su un totale ha visto di circa 10 milioni di metri cubi di fanghi dragatti, insomma. Chi la gestisce questa discarica? Sempre all'interno del progetto in mano appunto al gestito in parte la regione, in parte al 3S, la società 3S3. Proseguo? Bene. Poi appunto vi stavo evidenziando alcuni degli interventi a terra che sono stati fatti nel corso degli anni da parte di autorità portuale e poi successivamente autorità di sistema portuale, sono interventi che nell'ambito di lavori o sistemazioni infrastrutturali hanno permesso appunto anche lo scavo e lo smaltimento di terreni contaminati, contaminati in precedenza e il successivo riempimento con materiale di cava, il capping per la messa in sicurezza di alcune aree. Quindi questo ha permesso di fare il doppio lavoro, di creare infrastruttura efficiente al servizio del porto e al tempo stesso fare attività di bonifica ambientale. Anche in questo caso questo è un ulteriore intervento significativo perché poi è stato, questo è un terminal che rientra all'interno del progetto europeo di autostrada del mare, è stato oggetto di finanziamenti anche europei, è stato aperto nel 2014 con un lavoro che è iniziato però nel 2007-2008 e ha permesso di recuperare da un lato le aree ex alumix che per molti anni sono state sede di produzione di un sito che produceva alluminio primario e hanno permesso poi di riconvertire l'area ad attività economiche e produttive legate all'attività portuale e alla logistica appunto al terminal dell'autostrada del mare attualmente venissero a Port Mosse. Vedete che c'erano poi nell'ambito delle attività di bonifica di queste aree, erano stati individuati circa 32 mila tonnellate di rifiuti contenenti amianto che sono stati poi portati in Germania per la trattazione di conseguenza e tutto quello che si poteva utilizzare in situ per poi fare ulteriori attività di bonifica o di costruzione del terminal medesimo sono poi state utilizzate appunto in situ per recuperare il materiale se vuole con un esempio di economia circolare anche. Poi sono state fatte le aree che l'autorità di sistema o meglio l'autorità portuale successivamente a DSP aveva acquisito nell'ambito dell'isola del petrolchimico per fare il terminal, il nuovo terminal contenitore di area nell'area cosiddetta Monte Sindial ovviamente ha permesso o meglio permette di prima di poter fare il terminal vero e proprio di fare un lavoro importante di bonifica, stiamo parlando di circa 88 ettari appunto che erano posizionati nella quella che precedentemente era considerata l'intera isola del petrolchimico. Vedete questo vi rendo un quadro sintetico di quelli che sono stati gli interventi a terra nel corso degli anni realizzati da autorità portuale prima, autorità di sistema portuale poi e che hanno permesso significativi interventi di bonifica all'interno delle aree complesse di Porto Marghera. Nell'ambito dei marginamenti l'autorità di sistema portuale non ha, come vi ricordavo in premessa, una competenza diretta. Gli interventi di marginamento erano del magistrato Leacqua e adesso POPP o di altri enti pubblici ma non dell'autorità di sistema. Nell'ambito appunto, come ricordavo prima, di alcuni interventi che sono legati ai compiti di istituto, cioè la manutenzione delle banchine portuali, nel corso degli anni APV, poi ADSP, ha individuato dei tratti di banchina che bisognava manutenere e avendo aperto il cantiere ha fatto anche gli interventi di marginamento ambientale che erano teoricamente di istituto del produttorato dell'Opera Repubblica. Le competenze ambientali dirette. Questo mi è suonato un po' difficile, sono andata anche a riguardarmi la 84-94 la rivista e nello specifico non mi sembra così, anche perché comunque c'è il piano regolatore che deve essere approntato dall'autorità portuale che prevede anche prescrizioni ambientali. Come si svolge la pertinenza specificamente ambientale, visto che comunque c'è una gestione e una difficile anche questione inerente alla gestione dei rifiuti, non solo dei fanghi ma quindi di tante altre questioni che appunto riguardano anche proprio i piani regolatori, quindi l'avrà anche detto sicuramente, però mi sfugge qual è l'autorità che interviene nel settore con competenze specifiche ambientali e perché voi non le avete se credete che questa competenza vi debba essere attribuita in qualche misura. Allora, va tenuto distinto, forse non mi sono spiegato, noi non abbiamo competenze ambientali dirette, questo non significa che nella fase di pianificazione come da legge 84-94, particolarmente l'articolo 5, quando si fa il piano regolatore che ricorda uno strumento urbanistico, è il piano regolatore come dire del porto. Nella redazione dei nuovi piani o nella redazione di varianti ai piani viene acquisita il parere di via, addirittura nell'ambito dell'approvazione del piano deve essere acquisita la valutazione VAS. Quindi è lì il momento nel quale si esaurisce l'esame ambientale della pianificazione, ma è una pianificazione, non è un intervento diretto, cioè non è la previsione del marginamento puntuale piuttosto che della gestione del sito di bonifica, sono due cose fondamentalmente diverse. È ovvio che quando si va a fare la pianificazione e si va a prevedere un intervento pianificatorio che deve essere sottoposto alla valutazione di via VAS, all'interno di quella pianificazione e delle eventuali destinazioni funzionali delle aree e quant'altro, va dalla commissione di via però, non dall'autorità di sistema portuale, valutato l'intero piano. Quindi, come dire, la nostra è una competenza che prevede che facciamo un piano che non sia censurabile o non approvabile dalla commissione di via VAS, ma non è una competenza nostra la valutazione ambientale, non so come dire. È molto più chiaro perché ritenevo che per quanto riguarda tutte le questioni ambientali non fossero a vostro carico, invece ho capito cosa intende. È chiaro che la validazione venga dall'ente preposto. Però ritenevo che non foste voi ad occuparvene e che quindi intervenisse nella fase progettuale qualcun altro, un altro ente, su questa questione. Quindi era questo che volevo chiedere. Anche in questo caso, come lei diceva, per esempio, l'intervento di dragaggio. Noi predisponiamo l'eventuale progetto, ma l'approvazione del progetto è del POPP. Quindi la competenza, come dire, al via libera, non ce l'abbiamo da soli, non ce l'abbiamo noi quella competenza. Ci viene data dall'ente che ha quella competenza. Noi redigiamo eventualmente di autorizzazione. Se no, se io avessi detto che potevo farmi il ciclo completo di autorizzazione, avrei detto ovviamente, avrei fatto una forzatura. Mi perdoni, è giusto per spiegare dove è il mio problema. Cioè, per esempio, un architetto che è architetto paesaggista e quindi ha competenze ambientali chiaramente deve sottoporre il proprio progetto alla competente sovrintendenza. Quindi è chiaro che ci vuole sempre un ente di controllo e di validazione. Però la competenza nella progettazione comunque deve esserci, altrimenti non si può neanche fare la progettazione. Sì, Presidente, due cose. La prima è questa, l'analisi dei sedimenti, dei fanghi, dei sedimenti. Chi la fa? Quali sono? Avete un elenco? C'è un elenco di laboratori? Sono laboratori privati, pubblici e via dicendo. La seconda, la pianificazione, il piano regolatore del porto. Immagino che debba poi essere anche, insomma, che abbia degli elementi di sovrapposizione con il piano regolatore degli antidenti locali. Volevo capire a che punto eravamo in questa importante attività di pianificazione del territorio, questione naturalmente intimamente connessa al tema delle bonifiche di cui stiamo parlando oggi. Ora, l'analisi dei sedimenti viene effettuata attraverso l'assegnazione, attraverso procedure pubbliche previste a seconda della quantità, o meglio, dell'ammontare previste dal codice degli appalti. Vengono messe a gara e vengono vinte da laboratori specifici e da istituzioni che fanno questo dimestiere, che sono certificate, che devono avere determinati requisiti che sono ovviamente previsti nelle procedure ad evidenza pubblica o nelle gare che vengono effettuate. E questo è... e quindi poi noi riceviamo il dato che viene appunto analizzato e validato anche dal POPP. Per quanto riguarda, se posso, Presidente, vanno chiariti un paio di aspetti. Allora, la nuova formulazione della legge sui porti, a seguito della riforma del 2016 e dell'ulteriore riforma del 2017, prevede due strumenti. Avendo creato l'autorità di sistema portuale, c'è uno strumento macro che è il DPSS, il documento di pianificazione strategica di sistema, che nel nostro caso è un documento, avendo noi due porti, il Porto di Venezia e il Porto di Chioggia, ricomprende una pianificazione complessiva di entrambi gli scali, o meglio, di come gli scali si connettono al sistema logistico-infrastrutturale a terra e di retroportuale con il resto del mondo fondamentalmente. In un'ottica appunto lo dice anche il nostro nuovo nome di sistema. Fatto questo documento, i singoli scali, cioè Venezia e Chioggia nel nostro caso, adotteranno un nuovo piano regolatore, che è il vero strumento urbanistico, non so come dire, è un esempio totalmente sbagliato se vuole, però è lo stesso ragionamento di un PTRC e di un PAT, non so come dirlo, cioè c'è un piano macro che è quello regionale e poi c'è un piano più locale che è quello comunale. Noi avremo lo stesso tipo di ragionamento, con alcune differenze che poi sono state anche strutturate nel corso degli anni, anche pre-riforma, che dicono delle cose molto chiare. Il piano regolatore portuale è lo strumento urbanistico che all'interno dell'ambito portuale definisce le destinazioni funzionali, soprattutto oggi per domani dovrebbe definire anche le reti di connettività in maniera tale da efficientare il porto e se mi permettete, perché su questo io sono molto sensibile, permettere anche quel ragionamento di efficientamento e razionalizzazione della logistica che dovrebbe avere anche un risvolto positivo in termini di emissioni ambientali, perché se noi facciamo meglio o con meno o trasportando meglio o spostando con lo shift modale dalla ruota alla ferrovia o dalla ruota nel nostro caso, addirittura alla chiatta, perché abbiamo anche la via di navigazione interna, ovviamente abbiamo una razionalizzazione tecnica ma anche una minore emissione, un minor carico sulle strade. Questo, cioè il DPSS e il macropiano, i due piani singoli vengono successivamente. Quello che stiamo facendo adesso è redigere il nuovo DPSS che prevede una serie di accordi, noi abbiamo quattro comuni con i quali ci confrontiamo, perché sono Venezia, Chioggia, Mira e Cavallino Treporti, abbiamo già raggiunto un accordo con il comune di Chioggia, stiamo redigendo il medesimo sia con il comune di Mira che il comune di Cavallino e stiamo discutendo, per ovvi motivi essendo molto più ampia il coinvolgimento col comune di Venezia è anche più articolato il ragionamento e la discussione, ma stiamo arrivando anche lì. Esiste sempre all'interno della legge una serie di aree, o meglio le aree che verranno individuate dal DPSS, che verranno definite cosiddette aree di interazione porto-città, cioè le aree con termine, le aree dove ci sono i due confini anche fisici tra il porto, ma non necessariamente tra il porto e la città, tendenzialmente vengono individuate dalla DPSS di comune accordo, o dal porto che le suggerisce alla città di riferimento, la quale diventa poi, pur rimanendo all'interno delle aree portuali, diventa l'ente che stabilisce la pianificazione puntuale, questo permette di separare o di creare dei buffer anche se volete, tra le attività puramente portuali e industriali all'interno dei porti e le attività che essendo vicine alla città non potrebbero più avere un impegno pesante anche di suolo e di attività, però vi motivi di coesistenza tra città e porto. Noi siamo in questa fase, l'accordo con il comune di Chioggia è già stato fatto, stiamo appunto realizzando gli altri tre, nell'arco spero di quest'anno dovremmo essere in grado di chiudere i quattro pezzi di DPSS per poi poter cominciare con la fase autorizzativa del DPSS vero e proprio, che deve passare anche per il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici un'approvazione da parte della Regione, come definito dalla legge 84-94, ora in vigore. Allora, su Tresse, Tresse sta esaurendo, ha esaurito la capienza, come è la situazione? Poi, l'area di Moranzani era quella che io ricordavo fosse, mi risultava fosse fuori però dalla lagucia, sulla terraferma, fuori dalla lagucia, però è dentro all'ambito portuale. Ok, ah, com'iovo. Scusa Presidente, non è nel lato acqua, però è dentro all'ambito portuale, è la fascia più a sud di quella, torno in direzione sulla scuola. Quella com'è classificata? Come discarica, stoccaggio, com'è classificata? Allora, quella dovrebbe, però mi permette eventualmente di riverificarla, però nel famoso accordo di programma Valone-Moranzani, quella doveva essere la cassa di colmata dove andavano a essere destinati tutti i fanghi C e oltre C, ma non quelli pericolosi, quindi non discarica da rifiuto, ma cassa di colmata per i fanghi, come dire, più complessi da trattare, teoricamente. L'accordo di programma prevede poi che una volta riempita l'intera capienza, che dovrebbe risultare di circa 2.3 milioni di metri cubi, l'intera area dovrebbe essere poi messa in sicurezza e destinata a parco urbano, con destinazioni urbane di sviluppo. Questo era l'accordo originario, tenga conto che l'accordo di programma Moranzani ha avuto una gestazione lunghissima, se non ricordo male... C'era anche un problema di cavi, interamente di cavi... Quello, se mi permette, è l'unica cosa veramente puntuale che di quell'accordo è stata fatta finora, ed è stata fatta l'anno scorso, è stato rimosso, si è stato l'accordo con Terna, Terna ha rimosso e ha interrato il cavo, anche in questo caso, oltre a un fine di grande utilità rispetto alle attività portuali, c'è anche l'elemento di non avere più un cavo in sospensione, ma di avere un cavo interrato e quindi anche in questo caso ha un aspetto migliorabilità dell'area circostante. Questa cosa ha però avuto o ha in questo momento la difficoltà che, essendo vincolata a determinate tipologie di fanghi, non può essere usata, per esempio, per i fanghi di tipo B, al momento, che sono quelli di maggior interesse in questo momento per quanto riguarda i nostri dragaggi manutentivi. Quindi in questo caso c'è una disponibilità, ma c'è una disponibilità per un certo tipo di sedimento che ha anche, all'interno della tenuta economica dell'accordo stesso, una serie di elementi legati al costo del conferimento. e il piano si tiene su un certo tipo di prospettiva di costo. Noi abbiamo fatto una proposta di emendamento o di modifica o di miglioramento, dal nostro punto di vista, della possibilità di conferire determinati fanghi. Stiamo lavorando con gli enti competenti per verificare se c'è la possibilità di fare questa operazione. Però ovviamente in questo momento è ancora un'operazione in itinere, signor Presidente. Quindi lei comunque deve verificare com'è classificata? Da che punto di vista? No, di norma, mi permetta di classificarlo, cioè di verificarlo perché non vorrei dare un'informazione sbagliata, però a memoria mia personale sono i C fino ai non pericolosi. No, parlo dell'area Moranzani. Sì. Ha detto che lì vanno gli oltre C pericolosi. No, no, no. L'ho detto tutti quelli che sono C fuorché i pericolosi. Lì non è discarica. Dicevano i C, gli oltre C, ma non quelli definiti pericolosi che sono rifiuti. Io prima quando l'ho riassunto mi hanno detto così. No, è perché ha lo stesso nome. Attenzione. Quella è la vasca, ma sono 23 ettari che non sono all'interno di quel... è un altro paese. Ha lo stesso nome perché è la stessa area geografica. Però il vallone non è la vasca. Allora, cerco di capitolare. Allora, oltre C è Molossali. Oltre C è Molossali e teoricamente il vallone. Quelli non pericolosi. Ci sono altri due siti, vasca Moranzani e vallone. Nella vasca ci vanno i rifiuti, cioè gli oltre C pericolosi. Nel vallone ci vanno gli oltre C non pericolosi. Allora, quella di 23 ettari utilizzata poco, 5 mila, sarebbe la vasca Moranzani. Bravo, quella dei rifiuti. Dei rifiuti, questa. Invece, vallone? È quella area da 2.3 milioni di metri cubi possibili di conferimento che dovrebbe ospitare fino agli oltre C o gli oltre C non pericolosi e che a completamento del conferimento dovrebbe poi diventare area verde, urbana, parco, a utilizzo della cittadinanza. Che è quella con i cavi... Che è quello che... sì. Il cavo era sul lato acqua, insomma. Ma questa vasca quindi sta... No, questa vasca ha ancora una discreta capienza, ma dall'altro lato, per fortuna... No, parlo di questa vasca Moranzani. Sta vicino vallone? Sì. Ok. La vasca Moranzani quindi è considerata una discarica? Sì. Ok. Mentre vallone? No. È una cassa di colmata, appunto. Però, proprio per evitare di dare dati ulteriori... Ma vicino vuol dire? Vicino attaccati o vicino a qualche chilometri? No, non sono a qualche chilometri, sono nella stessa area... Posso tornare indietro del... Esatto, posso tornare sulla mappa... Attenzione. Ecco qua. Vedi? Lungo il canale sud, se guarda... Purtroppo non si vede molto bene, però se guarda tra la riga gialla più a sud di tutte... Non c'è il laser... Non so se c'ho il puntatore, ce l'ho? Dov'è il puntatore? Eccolo qua, chiudo su... No, scusate. Un attimo, un attimo arrivo. Dovrebbe esserci perché c'è il... Eccolo. L'ho messo sul soffitto. Eccolo qua. Allora, questo giallo... Tra il giallo e il rosso c'è il vallone. Ok? Cioè che è quello che dovrebbe diventare parco. Adesso non ho la contaminazione perfetta, però insomma è questa area qua. E la vasca di 23 etari è qua. Quindi è vicina ma non è, come dire, contigua. Ha quello stesso nome perché immagino che nel corso degli anni quella fosse il nome dell'area Moranzani, ecco. Ok, su Tresse la capienza? Su Tresse la capienza attuale, fra virgolette, è esaurita, ecco perché è stato fatto o è stato richiesto... Quando è stata esaurita? Nel corso del 2018, tra il 2017 e il 2018, o meglio, tra il 2018 e il 2019, diciamo. Perché poi noi abbiamo comunque, nell'ottica ovviamente del rispetto pieno di tutte le leggi, di tutti i regolamenti, di tutte le autorizzazioni, continuato dove è possibile a fare dragaggi manutentivi, siamo arrivati alla fine della capienza dei medesimi ed ecco che è il motivo per il quale abbiamo chiesto al provvitorato delle opere pubbliche e alla commissione di salvaguardia di autorizzare l'innalzamento dell'isola delle Tresse di circa un metro, che però non è un metro lineare perché a seconda dell'isola è un profilo non omogeneo, comunque l'innalzamento di un metro che dovrebbe portare nell'intera estensione delle Tresse a darci un ulteriore milione di metri cubi di capienza che è quella necessaria per spostare appunto fanghi, o meglio, la maggioranza dei fanghi in questo momento come dire, necessari per fare i dragaggi, ribadisco, manutentivi, dei canali di grande navigazione portuale all'interno del porto di Venezia. E come ricordavo, avendo chiesto e avendo la possibilità di rimettere a posto e di riutilizzare la casa di colmata a Molossali, abbiamo la possibilità lì di conferire appunto i C. Mi dispiace che hanno lo stesso nome, sia il vallone che la vasca, ma la topografia l'ho trovata in eredità. Un'altra cosa per capire, i fondali marini nel porto variano ogni ora, ogni giorno, quindi come funziona per capire dov'è il punto di andare a intervenire? C'è proprio una scansione georeferenziata da come ho capito. Battimetria? Eh? Vengono fatte delle battimetrie, cioè vengono fatti dei rilievi. Ok, ogni quanto. Allora, dipende. Di media noi ne facciamo, almeno quest'anno ne abbiamo fatti uno ogni trimestre, anche più recente, perché poi c'è un dialogo costante, voi, se non ricordo male, sentirete poi il direttore marittimo, l'ammiraglio Pellizzari, quindi noi siamo due facce, se volete, della stessa medaglia, nel senso che noi garantiamo l'accessibilità nautica e l'operatività commerciale e la capitaneria di porto, guardia costiera, garantisce la sicurezza della navigazione e la sicurezza in senso lato all'interno delle aree portuali. E quindi si verifica sulla base di eventuali segnalazioni, magari dalla nave piuttosto che dal pilota di porto, piuttosto che dalle rilevazioni che facciamo noi, che ci possono essere dei problemi legati magari a piccoli tratti dove si perde fondale o lunghi tratti dove si può perdere fondale, si fanno i rilievi battimetrici, si verifica qual è la quota di fondale e da lì si individua l'area che va manutenuta e dragata e poi si fa quel piano che è caratterizzazione. Quindi una volta che si è rivelato, quindi ogni tre mesi si fa la scansione, grossomodo per esperienza, così a livello indicativo, ogni volta si trova un'area che andrebbe dragata oppure è una cosa rara? Diciamo che per fortuna non è ogni volta che si fa un rilievo, però non è neanche una cosa rara e soprattutto nell'ambito di un porto a fondale principalmente sabbioso come il nostro è una caratteristica ontologica, cioè progressivamente i porti, particolarmente quelli sabbiosi, tendono a dover essere manutenuti con una certa continuità e quindi tendono ad avere la necessità di fare dei piani di dragaggi manutentivi costanti, continui. E poi una volta che si è individuata un'area che ha bisogno di essere ripristinata a livello del piano regolatore, diciamo così, del fondale, i tempi di intervento quanti sono? Una settimana, un anno, come funziona? Una domanda, questa è un'ottima domanda signor Presidente, che peraltro vale per noi, ma non vorrei permettermi di parlare anche di altri porti, però insomma è un problema abbastanza condiviso da quasi tutti i porti. Allora, sotto il profilo squisitamente tecnico, una volta fatta la rilevazione dell'esigenza del progetto, proposto il progetto di dragaggio al POPP, ricevuto l'autorizzazione al dragaggio o eventualmente fatto il progetto e ricevuto l'autorizzazione, noi facciamo le gare, infatti i tempi tecnici delle gare, viene fatto al dragaggio. Se è un dragaggio importante e consistente, ci sono dei tempi fisici, tot, metri cubi possono essere rimossi al giorno, però insomma sono dei tempi che sono collegati al progetto. Il problema, se vuole, è che in questo caso noi, essendoci avvicinati progressivamente all'esaurimento di alcune casse di colmata, avendo il sottoscritto, come dire, non gridato al lupo, ma insomma fatto notare che stavamo arrivando a capienza e quindi comunque sarebbe stato necessario individuare dei siti di conferimento, altrimenti prima o poi ci saremmo trovati a dover fare dei dragaggi, ma non avere il sito, avendo dovuto passare, meglio di me, c'è la legge salvaguarda per Venezia e quindi ci sono tutti i passaggi ulteriori, i tempi si sono allungati molto più di quanto come presidente dell'autorizzazione di sistema portuale avrei voluto, perché poi ci sono state una serie di complicazioni, se vuole, di natura burocratica fondamentalmente. Teoricamente, rispettando tutti i tempi di legge e avendo magari un piano che individua siti di conferimento in anticipo, quindi avendo delle capienze già individuate per tempo, ci sono dei tempi assolutamente ragionevoli, cioè ragionevoli con l'attività ovviamente di tutela ambientale, l'attività di sicurezza della navigazione, l'attività di sicurezza e mantenimento delle attività commerciali e portuali. Al netto è il fatto che poi ci sono anche grandissime società italiane che hanno la capacità e la tecnologia di fare questo tipo di interventi molto bene. Quindi queste tempistiche per capire quando... Dipende, cioè nel senso, con la cassa di colmata pronta, cioè al netto del fatto che c'è la capienza, due o tre mesi per fare le caratterizzazioni dovendo partire da zero, ma se sono già caratterizzati le abbiamo già, 90 giorni tempo tecnico per fare le gare e poi il tempo fisico, cioè a tot metri cubi da scavare, ci sono delle capienze massime giornaliere che possono essere fatte, si divide il totale per la capienza massima giornaliera e quindi si verifica, se è un piccolo dragaggio anche poche settimane, se è un grande dragaggio 3, 4, 5 mesi. Mi faccia fare il mio mestiere puntualmente. Teoricamente noi non dovremmo mai arrivare a un grande dragaggio manutentivo, perché se fai bene le manutenzioni dovresti averle cadenzate e programmate in maniera tale che non ti trovi mai a fare 5 milioni di metri cubi, ma 500 mila o 300 mila o 100 mila al colpo. E attualmente quanti ne state facendo? Attualmente molto pochi perché stiamo facendo solo la parte A, che è quella di ripascimento che ci è stata permessa. Appena verrà definito il via libera all'inalzamento delle 3S, faremo partire la gara per fare l'intervento manutentivo e con la massima velocità concessa dalle leggi dell'ordinamento e dalla tecnica procederemo a fare l'adeguamento manutentivo necessario. Quindi, riassumendo, visto che 3S è esaurita e c'è un progetto di ampliamento, quindi le tempistiche, nel frattempo si potrebbe creare un'emergenza, perché se c'è un'altra esigenza c'è... Si è già creato un'emergenza quest'anno abbiamo perso quasi 120 navi, non per demeriti, non per la carenza di mercato, ma perché non siamo stati nelle condizioni di fare per tempo i dragaggi manutentivi, che noi abbiamo previsto e abbiamo a bilancio, perché ho addirittura i fondi riservati a bilancio, ma non avendo il sito di conferimento mi mancava. Invece per quelli di classe A, per il ripascimento, c'è spazio nel senso, perché da quanto mi risulta non è che c'è tutto questo grande fermento, diciamo, perché in teoria, se ho capito bene questo ripascimento, c'è se c'è un cambiamento di piano regolatore, insomma le banchine che aumentano. Il ripascimento, però non è una domanda... Io posso rispondere come dire, relata a refero, il competente è il POPP. Il POPP, che deve fare il piano morfologico, è quello che in qualche modo disegna la morfologia della laguna, e quindi disegna dove ci sono luoghi dove si può scavare, e dove disegna dove ci sono luoghi dove va fatto un lavoro di ripascimento. Individuati da loro i luoghi dei ripascimenti, dove si fa una barena, dove si costruisce una velma artificiale, noi eventualmente in quei luoghi, autorizzati da loro, possiamo conferire il fango A. Ok, quindi c'è questa... Fuori la laguna non possiamo andare. Fuori la laguna, anzio. C'è quindi attualmente questi... È stato predisposto i nuovi ripascimenti per... Su conferimenti puntuali, qualcosina sì. Però il piano morfologico della laguna, che era stato predisposto, però ripeto, non è una competizzeria da cui vado a memoria, è stato predisposto, credo, nel 2014, e poi bocciato dagli organi competenti, e quindi siamo in una fase dove deve essere riadottato. Però ribadisco, non essendo una competizzerietta mia, non vorrei dare un'informazione sbagliata a una commissione di tale importanza, quindi lo prenda con le pinze. Se ci fosse però chiaramente il piano morfologico complessivo, potrebbero essere individuati i siti per gli A, ma anche i siti per i B, per i C e gli oltre C, e quindi in un'ottica anche di sana pianificazione da un lato e collaborazione interistituzionale dall'altro, loro si occupano di gestire la morfologia. Noi potremmo sapere con anticipo dove sono i siti di conferimento. Ergo potremmo fare... Questa sorta è un piano regolatore, lo fa questo che lo deve fare, il provveditorato? No, questo è il piano morfologico. Il piano regolatore è del porto, è un altro strumento, è un altro strumento, se no rischiamo. Piano morfologico della laguna. Chi lo fa? Il provveditorato delle opere pubbliche. Sì, ok, un'ultima domanda che... Sì, dopo voglio rifarle un'altra. Ah, ok. La stessa la fai tu. La stessa la fai tu. Ok, Arpa, io ricordo, testuali parole di Arpa, dice noi sui dragaggi non siamo competenti e quindi abbiamo fatto solo una relazione e abbiamo inviato alla procura, punto. Ora, voi dite che... Quindi io mi domando, le caratterizzazioni le fa solo un privato, un laboratorio privato, se Arpa, testuali parole, non si occupa dei dragaggi, delle caratterizzazioni. Qual è quell'ente terzo pubblico che garantisce che tutte le misurazioni vengano fatte come dovrebbero essere fatte? Premesso che appunto non solo competenze di rete dell'autorità del sistema portuale, mi stupisce, chiedo scusa, uso volutamente un termine forte, che possa essere, come dire, messa in questi termini la filiera, perché noi predisponiamo dei progetti che vengono approvati dal POPP, che vengono approvati da altri effetti del, come dire, dello Stato. Appunto, come ricordavo prima, la competenza sul controllo slash autorizzazione e bontà dell'approvvedimento ambientale non è nostro, perché altrimenti ci autofacciamo il progetto e poi ce l'autorizziamo. non credo che possa ARPA chiamarsi completamente, come dire, fuori dalla filiera, però è sicuramente, c'è un'autorizzazione, una serie di questioni di natura ambientale che stanno in capo al Progetto dell'Opere Pubblica, cioè il Progetto dell'Opere Pubblica che ci utilizza a norma e a seguito del protocollo gestione di sedimenti, quello del 93 o quello futuro, delle procedure, e nel rispetto di quelle procedure di verifica e di controllo che valida, appunto, quando si fanno le caratterizzazioni, la validazione è la caratterizzazione più opibile. Voi non avete mai lavorato con ARPA, diciamo così. Noi lavoriamo con ARPA, come le dicevo, per quanto riguarda sicuramente la parte di bonifica a terra, perché la validazione dell'asportazione, del materiale, di rifiuto e degli obiettivi di bonifica sono sempre validati in contraddittorio con ARPA. Per quanto riguarda la parte di dragaggi, il nostro, come dire, riferimento in termini autorizzatori è il POPP, che si occupa di fare tutta la fase di preliminare di validazione del progetto anche sotto il profilo ambientale. Sono comunque tutte validazioni che sono in capo alle agenzie ambientali, quindi comunque sarà poi il provveditorato delle opere pubbliche che si rivolge ad ARPA, ma ARPA è per la 152 l'ente preposto al controllo. Di tutte le bonifiche è un dragaggio di, diciamo, di fanghi oltre C pericolosi. Sono bonifiche. E quindi dalla 152... No, ARPA. Nella laguna di Venezia c'è un regime particolare. Ah, va bene. Non ha compreso. Sì, due veloci questioni. La prima c'è il progetto di innalzamento dell'isola delle 3S quindi un milione di metri cubi in più. Voi avete fatto una stima degli anni nel momento in cui dovesse essere approvato questo progetto e mantenendo un'ordinaria manutenzione quindi dell'escavo dei canali già esistenti quindi da quello che dovete fare da piano regolatore. Quanti anni sarebbero diciamo per quanti anni sareste apposto diciamo con questa prima questione. Seconda protocollo fanghi quello in in itineri quello in in costruzione in scrittura e speriamo una definitiva approvazione. E cosa modifica secondo lei questo dal punto di vista del procedimento e se modifica qualcosa anche dal punto di vista del conferimento perché siccome si introdurranno in conformità con le direttive europee anche analisi diciamo più ampie e quindi con maggiore attenzione ambientale questo modifica anche il conferimento e la struttura diciamo dei luoghi del conferimento che era stato studiato in base al protocollo fanghi vecchio. Grazie. Allora stima degli anni è oggettivamente una stima nel senso avendo noi un fondale sabbioso e per esempio e quindi particolarmente mobile sensibile e avendo avuto lo sapete meglio di me lei lo sa meglio di me perché come me è veneziano delle maree particolarmente intense quest'anno è evidente che un intensificarsi quel tipo di maree porta anche a una movimentazione di sedimento che può portare a sua volta a interamenti particolari all'interno dei canali quindi diciamo si possono fare delle stime in condizioni normali fondamentalmente non eccezionali come quelle che abbiamo incontrato quest'anno allora con il milione di metri cubi noi saremo in grado di mettere in sicurezza i canali navigabili del porto di Venezia e anche di fare alcuni dragaggi manutentivi nel porto di Chioggia che in questo momento non è stato toccato non ne abbiamo discusso ma che ha bisogno di dragaggi manutentivi perché nel corso degli anni prima che lo acquisissimo noi venne fatta poca manutenzione il porto di Chioggia ha perso molto fondale e quindi per tornare a essere competitivo e un porto ha bisogno anche di quello quindi il milione ci dovrebbe permettere di fare una manutenzione che con una stima attendibile almeno un triennio dovrebbe assolutamente assicurare e anche forse qualcosa di più assicurare la piena la piena operatività al porto è evidente appunto al netto di eventi come dire imponderabili che potrebbero peggiorare il livello dei fondali o peggiorare il livello delle sponde ecco perché per esempio è anche importante proseguire nell'opera di consolidamento delle spalle delle sponde delle casse di colmata che anche in questo caso in alcuni momenti hanno o possono o possono cedere continuo a rispondere il protocollo fanghinitinere noi l'abbiamo seguito fino a un certo punto nel senso che fino a luglio eravamo coinvolti nella fase anche di consultazione attraverso il prodotto dell'opera pubblica e da un punto di vista anche se vuole della gestione ambientale del sedimento era arrivato a un livello molto alto di tecnologia non fosse altro perché le tecnologie del 93 non sono per fortuna quelle del 2019 e 2020 quindi essendo passato molto tempo quello del 2019 e 2020 è un protocollo molto più operativo che introduceva anche degli aspetti sull'esame o sull'analisi del sedimento che non è più solo sui metalli ma anche sulla biologia su alcune cose da quel momento in poi come direi l'autorità di sistema portuale non è coinvolta direttamente nella fase di redazione io posso semplicemente riferire che abbiamo visto alcune delle osservazioni che sono state fatte da altri enti ISPRA ISS a valle ovviamente abbiamo visto solo come atti e in linea di principio appunto dobbiamo semplicemente essere accorti come sistema Italia direi come amministrazione a fare un protocollo che da un lato usa tutte le tecnologie dell'oggi per avere il massimo livello di protezione ambientale e di gestione del sedimento dall'altro però che lo renda comunque un protocollo operativo cioè se dobbiamo fare la caratterizzazione del sedimento giustamente il presidente faceva una domanda appunto tutt'altro che peregrina prima non può essere che la mera caratterizzazione nell'ambito delle procedure dura due anni perché se per caratterizzare ipotesi perché se per caratterizzare i fanghi ci metto due anni poi ci metto due anni e sei mesi solo per fare i dragaggi lei capisce che questi tempi sono incompatibili con l'operatività di un porto di qualsiasi porto non solo del porto di Venezia allora il protocollo che dovrà uscire spero sia e esca un protocollo che sia appunto il massimo dal punto di vista della scienza e della tecnologia ci teniamo anche noi però dall'altro lato deve essere uno strumento operativo che permetta a tutta la macchina statale quindi anche l'autorità di sistema portuale di poter operare con delle tempistiche conseguenti insomma e quindi evidentemente cioè sicuramente potrebbe incidere sulla parte del conferimento ma se fosse appunto quello strumento così puntuale e operativo che auspichiamo esca dall'elaborazione in corso potrebbe addirittura aiutare perché avendo una cioè come dire facendo una caratterizzazione una profilazione del fango molto più puntuale potrebbe permettere magari di trovare siti differenti e utilizzi differenti del fango però queste sono come dire considerazioni che faccio a valle di un procedimento perché non è in capo a noi e quindi questo è un wishful thinking se vuole presidente un'ultima domanda quanto e se l'altezza dei fondali influenza la qualta a Venezia questa è una domanda che mentre il contrario è logico invece volevo capire il contrario allora su questo appunto non essendo il nostro campo diretto di azione anzi posso dirle due cose che stiamo realizzando uno studio molto approfondito di modellazione dei flussi di marea all'interno della laguna proprio per avere un dato anche di simulazione molto puntuale che ad oggi almeno per quanto riguarda l'autorità di sistema portuale non è ancora stato fatto e stiamo cercando di farlo perché voglio dotarmi appunto di tutti gli strumenti di scienze di previsione attuali da questo dall'altro punto di vista è una domanda che è sicuramente legittima però apre come dire la stura se lei ha mai seguito gli ultimi 50 anni di dibattito a Venezia tra l'altro io avendone 41 una parte per fortuna me li sono risparmiati ma se va se legge i titoli dei giornali dall'acqua grande del 66 in poi si è aperto un dibattito che a volte è diventato un dibattito manicheo bianco o nero a volte è stato un dibattito un po' particolato dove troverà alcuni anche studiosi importanti che le diranno assolutamente sì tantissimo alcuni che le diranno no in maniera irrilevante alcuni che le diranno sì a certe condizioni quindi non ho in questo momento la facoltà di poterle dire con precisione questo sicuramente la possibilità di sentire e udire vari scienziati del paese e non forse sarebbe anche utile magari chiedere anche a altre realtà così sono terze e meno concitate un'opinione su questo tipo di intervento che aiuterebbe sicuramente perché se avessimo un po' più di informazione scientifica terza aiuterebbe almeno per quanto mi riguarda il dibattito sul tema bene grazie e dichiaro che sarà l'edizione grazie